Ciao e siamo qua su Modern Warfare 2 ma perché non fare un tutti contro tutti allora sono una pippa queste sono le mie classi fanno schifo si fanno schifissimo non so che partita verrà fuori ma così a cazzo proprio veloce veloce i classi da pippa aspettiamo che trovi la partita dai e si incomincia a me tutti contro tutti stavo già cercando i miei membri di squadra sali 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 guarda quanto sono le leggi mostri ah ah ma la fan tua sorella oh 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 mio dio no merda pezzo di merda cazzo l'ho attaccata qua via ma non è ti vengo a prendere ma ma era qua ah ma l'hanno ucciso ma questo qua da no ma che c'è ma ma questo qua è spuntato ma che cazzo ciao 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 mamma 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 mia mlg pezzo di merda mamma mia ho preso uo di e fomentamento 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 fomentato no le morta su cance ma pigli in culo figlio di puttana il signore Gesù ci salverà con la sua redenzione dai peccati no ma sto cazzo ma dai porca puttana vaffanculo no ma cosa saluta ma sword ma dai sto cazzo hit marker oh oh mio dio mamma mia MLG master non si può salire dal palo ah 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 tua sorella no 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 ma porca oh mio dio vaffanculo no big scope non siamo sul canale del faceclan porca no no oh mio dio no oh mio dio porca ma che cazzo ha fatto oh mio dio oh mio dio oh mio dio tu non me li fai qui scopo figlio della merda oh oh mio dio ah cazzo cazzo mi tremavano le braccia che cazzo vabbè MLG clan che bella partita eh 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 bellissima cazzo